Playhouse Disney sta diventando Disney Junior e ti presenta il più famoso dei pirati Guardatevi! Non potete battermi! Sono un genio nel rubare i tesori perduti! Mi diverto tanto a giocare con le cose di Jake, con la mia nave e la Jolly Roger E il fedele nostromo spugno! Nessuno può battermi! C'è un ospite per voi, Capitano! Il coccodrillo! Salva mi spugno! Preparati a incontrare Capitano Uncino, fai rotta verso Jake e i pirati dell'isola che non c'è Da 14 maggio a Disney Junior